Com'è stato l'incontro con l'Ilialliavia? A me piace queste cose, la squadra deve capire che è la squadra della città è la squadra di tutta l'Oltenia, quindi dobbiamo essere disponibili per tutti questi ragazzi. Mi piace con questa squadra, l'equipo deve sentire quando siamo in Orasio, ci sono altri altri altri. Se non facevi allenatore, ti piaceva fare insegnanti di scienze motorie? Non so se sono bravo come allenatore, ma non so neanche se sarei stato bravo come insegnante di scienze motorie. Non so se sono molto buon come trenore, ma non so se ero molto buon come professore di educazione fisica. Cosmin contro l'Odava, Femitrizza e Baluzza, li vedete la equipa nazionale? Cosmin contro l'Odava... Cosmin deciderà se sono giocatori adatti per il suo progetto nazionale. Io posso solo dire che sono due ottimi giocatori e due ottimi ragazzi. Cosmin contro l'Odava decide se sono giocatori valabili e se sono buoni per il proiecto lui. Io posso dire che sono due giocatori valabili. Credi che sei diventato in un tempo così amato in Creova? Pensavi che potevi arrivare così amato in Creova? No, no, questa è una cosa che sinceramente mi fa tanto piacere. Mi fa veramente tanto piacere. Io spero di ripagare alla fine dell'anno che tutta la gente sia anche più contenta di me. Io sono molto molto felice per questo lavoro e spero di riuscire a spiegare le emozioni che le avevo avuto. Ora devi pensare che anche le esigenze sono più alte. Questo lo sappiamo, però sappiamo anche che noi dobbiamo pensare a migliorare sempre, a crescere un passo alla volta come abbiamo chiesto la società. Dobbiamo crescere, sappiamo che dobbiamo crescere ancora tanto, sappiamo che il campionato... Adesso dice che ci sono due squadre davanti, favorite, però il campionato è lungo. Lo sappiamo questo. Lo sappiamo che ci sono due squadre, ci sono due squadre, ci sono due squadre che sono favorita. Lo sappiamo per l'idea nostra. Quante autografie hai fatto? Hai pensato di portare i tuoi giocatori per darti una mano? No, oggi c'era una vera leggenda di Craiova. Io sono qua di passaggio, lui è una leggenda qua, quindi è importante che ci sia lui. Poi dopo, oggi ragazzi, la prossima volta faremo anche con qualche giocatore. Astazi a fost con noi una leggenda a Craiovei, domnul Ungureanu. Io sono solo intermedio, solo temporale aici, la Craiova. La leggenda adevarata è con noi. Hai una favorita che si gestisce Champions League o Europa League? Pensi a una favorita che deve vincere Champions League? No, come si fa, è una partita in fatto. Beh, non lo so, non ho idea. Ha fost decat un singur match giocato, non si può pensare il lucro a questa. E presto. Tutte le cose nel calcio in genere si decidono tra marzo e aprile. Anche la Champions League, ma non solo la Champions League. Tutte le lucrurle in fotbali si decidono tra marzo e aprile. Non solo la Champions League. Si credeci per chi dovresti gestire Champions League? Da un punto a vedere del tuo cuore, chi vorresti vincere? Non c'è la squadra del mio cuore in Champions League quest'anno. La squadra del Suflete è in Champions League. Hai avuto un messaggio o avrei un colpio che arriva in casa? C'è stato qualche messaggio da qualche bambino che ti è arrivato al cuore, all'anima? Quella però non posso dirla, quella che ha detto quel bimbo lì. No, sentire i bambini che per una semplice presenza o per un autografo dicono posso andare a casa felice oggi è una bella cosa. Auzind copiii ca doar pentru o semnatura pot sa ma duc acasa fericit, pentru mine este un lucru mare. Mulțumim! Mulțumim!